eccoci qua ragazzi Gianluca Lambusta l'unico trader in italia che mostra i suoi trades e i suoi risultati infatti oggi parleremo di risultati insegna ai suoi ragazzi anche come guadagnare sui mercati finanziari ma soprattutto come fare a farsi finanziare il proprio trading perché ragazzi chi vi dice che si fa tanto con poco vi sta mentendo allora innanzitutto posso fare solo adesso questo video perché sono stati tre giorni pazzeschi si è giunta una persona dentro casa e quindi sono stati due giorni veramente intensi e domenica sera adesso 28 però comunque alla fine va bene perché oggi parleremo di risultati di febbraio e di quello che febbraio mi ha portato ecco anche vada fuori dal trading perché ragazzi alla fine il trading si deve inserire nella nostra video l'ho sempre detto e ancora a maggior ragione oggi posso dirvi che il trading si deve inserire nella vostra vita non è la vostra vita che deve andarsi ad inserire nel trading e deve essere per forza viceversa altrimenti voi state costruendo qualcosa che vi farà solamente male il trading secondo me deve essere uno strumento che possa semplificare la vostra vita e che non la deve assolutamente rendere più complessa perché se vogliamo vederci la vita dobbiamo vederci anche momenti come quello che mi sto godendo io adesso che non valgono assolutamente nessuna moneta del mondo nessun guadagno del mondo ecco questo ve lo posso assicurare volevo iniziare proprio così questo video comunque giornata 39 40 della nostra del nostro daily vlog della nostra del nostro 2021 come trading parliamo di risultati i miei risultati di febbraio quindi mostrerò come al solito la mia la mia operatività mostrerò come al solito la mia dashboard abbiamo chiuso un mese tra l'altro un trade aperto che sicuramente verrà conteggiato a marzo e bene io direi di andare direttamente sulla piattaforma allora volevo innanzitutto far vedere parto sarà mi sono messo un appunto sul fatto che la mia ragazza partorisse mia moglie partorisse però sostanzialmente ho acceso da poco il il pc ed è giusto che adesso mi escano tutte le notifiche allora appunto dicevo 28 28 20 20 e 26 da poco arriverà tra l'altro la pizza stasera partita serata da single 20 22 serate da single me le sto godendo perché tra poco ci sarà l'invasione allora detto questo andiamo a vedere la piattaforma allora io ho selezionato come potete vedere i miei conti sono tre tra l'altro uno lo devo chiudere perché un sottoconto del main account però li flaggo tutte e due perché non sia mai qualcuno potesse li potesse venire in mente di dire deflagga uno così non si vedono le parti segno tutte e due gli altri sono tutti quanti conti demo che mi ha confermato un ragazzo che tra l'altro segue questo canale che la ninja gli aggiunge così non si sa perché questo è il conto di mio zio che se volete posso aggiungere ma vedrete che i risultati aumentano questo è un conto sim sim e questo è un conto che utilizza una volta per fare una prova di arto trade che passai tra l'altro potete vedere che ritmi for ninja c'è anche il provider ma sostanzialmente non c'è niente potrei se potrei anche flaggarli tutti per farvi vedere che sostanzialmente comunque sono questi gli account tra l'altro vedete nel durante il corso dei miei trades quindi insomma non c'è dell'altro allora facciamo genera 77.337 dollari questo è il mese di febbraio concluso abbiamo messo il mese di febbraio da parte e ci siamo quindi aggiudicati più o meno più o meno 77 mila dollari lordi sono 77 mila netti devo essere sincero è stato un buon mese non capisco il motivo per il quale mi metta due short trades io credo e questo devo avere conferma ma sostanzialmente ecco da un certo punto di vista tutte queste statistiche long short secondo me sono un po falsate il numero di trades giusto chiaramente la percentuale di vincenti anche qui io non ho avuto trading perdita il problema è che quando vado a strutturare una posizione scalettata è ovvio che se io comincio a mettere un target ad esempio adesso vediamo il trade in questione quello che sto gestendo entrando diversamente livello cronologico uscirò poi con prezzi diversi è capace che la piattaforma riconosca se io piano piano comincio a strutturare il trade e parto da comprare a 10 per poi comprare a 7 per poi comprare a 5 mentre il mercato scende per poi comprare a 3 ho un prezzo medio di che è di 4 e mezzo ok comincio però a uscire in profitto a 8 se uscissi a 8 molto probabilmente alcune volte la piattaforma riconosce come se io avessi chiuso la prima parte di trade che ho cominciato a comprare a 10 ad 8 e quindi chiaramente per lui una perdita ma sostanzialmente no perché un prezzo medio più basso però ovviamente quelli che ho comprato a 3 guadagno è un po fa un po i calcoli che vuole sostanzialmente a me interessa soprattutto vedere il net profit interessa vedere quanti trades ho fatto questa anche percentuale un po falsata ora falsata nel senso che nel frattempo la mia la mia sia mia ragazza non è la mia ragazza la mia donna che viene a gestire quale pulizia la mia maid sostanzialmente mi dice che domani mattina alle 8 perché così prepariamo casa per le per le donne e tutto in diretta ragazzi state tranquilli stavo dicendo a me interessa comunque vedere più o meno la percentuale dei vincenti che è un po falsata dovrebbe essere al cento per cento evidente questo mese però va bene così siamo umili e ci accontentiamo anche di meno allora però ovviamente vediamo cosa stiamo facendo a livello di trading perché siamo in operazione assolutamente allora togliamo questo togliamo questo ottimo e mettiamo questo che sta continuando a caricare ci metterà una marea vabbè noi intanto carichiamo allora un trade aperto da meno 9 mila dollari è un trade che sto strutturando da avrente allora diciamo che il trade che ho cominciato a chiudere in positivo nei giorni passati ma che sostanzialmente mi è rimasto un po in pancia con un lotto il quale poi lo continua da strutturare con altri due lotti quindi diciamo che è una situazione che pensavo diventasse più semplice a livello di lettura credo che sia promettente però insomma parliamo sempre del dell'ipotetico sostanzialmente allora il trade è questo qui sono long di tre lotti di s&p credo che il mercato sia totalmente destrutturato come al solito adesso vedremo a mezzanotte adesso ho una perdita potenziale di 9 mila e 9.200 dollari insomma mercato è chiuso quindi ancora non ho i dati i dati in reale allora ragazzi io su questo poi vi aggiornerò chiaramente nel vlog successivo chiudiamo questo come una diciamo un vlog finale del mese di febbraio spero di esservi stato utile mi state accompagnate in questa in questa diciamo in quest'anno di trading e spero di raccontarvelo al meglio ci vediamo nel vlog di domani dove cominceremo a tradare e dove si comincerà anche per me tornare un po alla normalità ciao ragazzi